Ciao a tutti ragazzi, io sono Titto e benvenuti in questo nuovo video. Ad oggi siamo tornati sul server Jartex e oggi faremo le Sky Wars. Alle Sky Wars non sono proprio capace, cioè non è che non sono capace, non mi piacciono. Allora, sta lagando un po' pure, facciamo solo Normal Mod. Non dico di vincere, cosa che non faremo, però almeno nel podio, almeno quello. Allora, siamo 6 giocatori su 7, il kit della spada, intanto non è che non c'è l'altro. Allora, siamo 7 su 2, allora vi invito subito a lasciare i 5 mi piace per un prossimo video. Fatemi sapere se volete le Sky Wars in compagnia di Alezio. E lascateci come mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina e condividete questo video con tutti i vostri amici. E che dire, vi auguro una buona visione. Ok, sta per iniziare. Allora, sta laggando già. E anche di brutto. Allora, prendiamo. Tutte queste, prendiamo. Allora. Con questo non posso, mi serve il ferro, perfetto. Ma non c'è un piccoletto, avete il ferro o no? Prendiamo questo, il caschetto. Allora, prendiamo il ferro. Tutto il ferro che c'è, così meno ci possiamo fare anche qualche pezzo dell'armatura. Allora, prendiamoci qualche blocco, allaggando. Ok, posso fare la fornace? Sì. Eh, ma la fornace già c'era. Eh, allora. Andiamo qualche blocchetto. Andiamo un altro ferro. Che in più non ci fa male. Meglio un'armatura di ferro che di pelle. Tutto. Dieci. Nuove persone ancora in vita. Che è successo? Allora, due pezzi. Ci facciamo innanzitutto, dato che non ce l'abbiamo, una bella crafting table. Qua ci facciamo una bella spada. Allora, spada. Spero che non vengano da mattarci subito a noi. Perché non abbiamo niente. Ok, non stanno venendo da noi. Allora, prendiamo. Ok. Tico, ok. Allora, crafting table. 3 qui. Poi stick. E adesso prendiamo tutti i diamanti. Non laggare. Ok, facciamoci subito la spada. Anche se me l'avrò fatta già di ferro, però vabbè. Prendiamo questo. Ok. Allora. Andiamo questo. L'avrò visto, sono sbagliati i diamanti. Non lo sa che ho sbagliato. Ma questo qua c'è un'altra cesta addirittura. Allora. Allora. Qui da 12 secondi ci sarà qualcosa di nuovo. Facciamoci. Mettiamo tutto il legno a cuoce. Cuciniamo tutti questi pezzetti. In cui noi ci facciamo. E... I gamballi, eccetera. Questi. Prendiamo altro legno. Andiamo sopra. Ho rimasti in quattro giocatori. Già si è rimasti in quattro. Già va bene. Allora. Due. Mi sapeva un altro pezzo per fare. I stivoletti. Allora. Eccolo qui. Eccolo qua. Stivoletti. Allora. L'oro non credo che ci serve. Allora. Adesso diciamo il caschetto. Come ci facciamo? Allora. Per fare il caschetto se ne sbaglio. Ce ne servono. Altri tre. E poi andiamo all'attacco. Perché sennò vengono loro qua da noi. Ho due diamanti. Sì. Peccato che non ho trovato di altri. O che se non facevo il pezzo di armatura andiamo avanti. Ok. Ma che se ne avevo un altro pezzetto per fare il coso. Ok. Sennò si entra in top 3 presa. Allora. Prendiamo questo. Ok. Va bene così. Andiamo al centro. Carne mettiamola qui. No. Lo faccio così. L'hanno inserito così. E andò sta laggando. No. Sta laggando no. No no no. Sta laggando no 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 no. Dai dai. Ha laggato però. Dai. Annaccio. Vero che non è che c'è così tanta vita. Non è che è rimasta così tanta vita. E niente. Prossimo a Sky Wars. Allora. Sta per cominciare. Chiamo il kit. Questo. Ma noi abbiamo tutto il legno per iniziare. Allora. La mappa è sempre la stessa. Sì. Siamo. Ma che non ancora sei giocatori. Allora. Sta per iniziare. Facciamo subito quella cesta da sotto. Sta laggando. Ok. Adesso sta per iniziare. Non so perché non è stata laggando. Non ci sono i player. Vabbè. Oh. Dove mezz'ora. È partita. Allora. Molto buono. Già due pezzi di armatura in ferro. Buono. Se qua sotto trovo niente. Piccoli di ferro no. Quindi dobbiamo farcelo. Uno. Due. Tre. E prendiamo un altro po' di ferro per fare i pezzi di armatura. La fortuna è che due ce li abbiamo già fatti. Quindi non dobbiamo farli. Stiamo cucinando questi undici pezzi. E noi ce ne servono in totale quattro. Facciamo come si facciamo la cat in table. La quattro per gli stivaletti. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sette. Ce ne servono. Undici. Undici. Si devono cuocere tutti i pezzi. Allora. Così me lo faccio. Ehm. Mo facciamo anche. Ah. Spai. Ci serve anche il piccone. Quindi si servono di più. Allora. Stivaletti. Quattro. Ci mancano solo i pantaloni. Che forse quelli non li facciamo. Allora. Ci serve adesso tre pezzetti per il piccone. Così me ci facciamo la sfada in ferro. Può dire di farci qualcosa. L'armatura in diamante. Però che funziona abbastanza. Due. E tre. Perfetto. Facciamoci i stick. Quelli qui. Piccone preso. Sto facendo. Ok. Allora. Appiniamo tre diamanti. Poi. Quattro. E basta. Con questi quattro facciamo. Ovviamente. La spada. Poi. Con questi due. Aspettate. Ce n'è un altro qui sopra nascosto. Poi. Non credo che ce ne sono altri. Lo scappiamo un po' qui. Io non credo. Ci sono tre. Possiamo farci il piccone. Ma non credo che ci serve. Allora. Quattro pezzetti. Con quattro pezzetti. Allora. No. Ci serve. Dobbiamo cucinare questi altri tre pezzetti. Allora. Quattro. Tre. Quattro. Cinco. Cos'è? Sette. Ok. Se uscidiamo questi. Ci possiamo fare. I pantaloni. Armatura fatta. Eccola. Allora. Vediamo un po'. Andiamo qua. Già. Grazie. Grazie a tutti.